Buonasera, buonasera a tutti, eccomi ancora una volta tutte le sere ormai a tenervi compagnia perché guardate ma al tempo imminente dalle previsioni, dalle carte stiamo passando alla realtà e la realtà si sta dimostrando esattamente come previsto a tratti anche imprevedibile soprattutto gli eventi a scala locale non sono ovviamente prevedibili e possono innescarsi anche abbastanza rapidamente quando l'evoluzione generale, il quadro barico, la sinottica chiamiamola come volete comunque tutta l'evoluzione meteorologica generale si fa abbastanza pesante nel senso che una grande massa fredda instabile, non c'è da fredda instabile dal nord atlantico sta per giungere nel Mediterraneo e innescando, creando anzi perturbazioni di grande portata, le grandi perturbazioni autunnali che quest'anno, a dispetto di chi pensava di arrivare a Natale sempre con lo stesso tempo, stanno giungendo nel periodo che è deputato a ciò, cioè a metà ottobre e vedrete anche forse novembre, inizio novembre, insomma un grande peggioramento sta verificando se nel Mediterraneo centrale, oggi 130 mm in due ore a Folloni che in Toscana ha un ubifraggio di notevole rilevanza, si è trattato un fenomeno nel complesso abbastanza isolato ma che sarà seguito da altri fenomeni di uguale portata se non di più e soprattutto molto più vasti, mentre vi parlo stanno già si stanno già organizzando altri temporali tra Levante Ligure e Alta Toscana dove in nottata è previsto un forte peggioramento dove c'è allerta arancione e le precipitazioni potrebbero essere di forte intensità seguite poi tra giovedì e vedervi da un più ampio peggioramento che dovrebbe condurre a piogge stesse organizzate su gran parte del nord, nord-ovest, regioni tirreniche e qui rispondo agli amici della Romagna che mi scrivono sempre di qualcosa anche delle parti più orientali, effettivamente le regioni adriatiche e la Romagna in particolare per il nord, non il nord-est, saranno sotto vento al flusso principale in un primo tempo, quindi dominerà il garbino. Non sarà particolarmente caldo, nel senso oggi ad esempio era molto freddo in Pianura Padana, 12-13 gradi anche di massima che non è poco per ottobre, ma tutta questa fascia dalla Romagna e buona parte dell'Adriatico sarà soggetta a venti di caduta abbastanza secchi in un primo tempo, questa è la classica connotazione autunnale che spesso c'è stata e che c'era negli anni tra il 60 e il 70, ad esempio il 80, il classico flusso atlantico, ma ripeto il peggioramento è vasto, ben organizzato e dopo ci sarà spazio anche per altre precipitazioni anche nelle altre regioni. In un primo tempo però sarà più secco l'Adriatico, è molto più umido il Tirreno, il tutto il nord-ovest, buona parte del nord, anche i rievi del nord-est saranno interessati da precipitazioni piuttosto intense, parzialmente al riparo il sud in questo momento, dove le temperature aumenteranno molto nel weekend, ma comunque il maltempo sta arrivando e sarà anche di forte intensità per alcune regioni, quelle più occidentali e tutto il versante tirrenico. Come dicevo, iscrivetevi al canale YouTube, ormai lo state facendo, qui passeremo insieme molto tempo si spera e aggiorneremo man mano, amplieremo anche la proposta con video di vario tipo e non vedo l'ora di poter fare anche delle dirette con voi, con gli altri tecnici dello staff, insomma le cose saranno sempre più o meglio organizzate. Vi mostro subito quello che sta accadendo perché comunque ci tengo a non parlare solo io di persona, ma vorrei far vedere i fatti. Eccoli qua i fatti, guardate questa grande perturbazione, la prima di una lunga serie, un'altra ci sta lasciando, è quella che ha generato oggi l'ubifragio a follonica, ma ecco, fate attenzione, vedete proprio a causa anche di un wind shear, cioè lì cinquota è sud-ovest che si presenta al suolo, lo scirocco si stanno organizzando questi corpi nuvolosi, si vedono a malapena alla fine dell'animazione, ma assumeranno importanza perché potranno generare fenomeni molto intensi. Qui c'è un'altra struttura prevista nella Francia sud-orientale a ridosso delle Alpi che genererà altri forti temporali e più in qua ecco tutto il flusso atlantico che tenderà a gettarsi nel Mediterraneo nel prossimo periodo. Vediamo cosa succede, eccoli qua, guardate come si stanno organizzando i temporali tra Spezzino e Versilia. Sono ancora a largo ma insomma si estenderanno in nottata, stanno prendendo vigore, un V-shape, queste saranno le regioni al momento maggiormente interessate al maltempo, ma le cose poi cambieranno ancora. Vi faccio vedere il modello europeo, cosa prevede, perché veramente qualcosa di importante. Attenzione, questo è il primo peggioramento, vedete come si forma il blocco e come arriva tutta questa lingua verde, guardate come punti verso il Mediterraneo. Questa vasta depressione ha le dimensioni due o tre stati e quindi il corpo nuvoloso che l'accompagnerà sarà molto intenso e molto vasto. Entra nel Mediterraneo nella giornata di venerdì pieno, inizierà da giovedì sera, poi tende a ritrarsi, il blocco resta, ma restano le correnti sud-occidentali che nei versanti tirrenici ancora e arcoligure porteranno precipitazioni intermittenti ma abbastanza frequenti allo stesso tempo, perché comunque saranno giorno dopo giorno. Poi sembra che migliori se arriva aria calda, ma è solo una rimonta calda temporanea perché altre perturbazioni arrivano e addirittura, secondo queste emissioni del modello europeo, a fine emissione, arriva un altro forte peggioramento che nel modello americano di questa mattina era visto particolarmente intenso, cioè una perturbazione che alle porte del ponte proprio dei morti poteva portare un altro forte peggioramento questa volta nelle regioni centrali. Vi faccio vedere adesso, questa è la previsione del modello europeo, guardate qua, questa adesso, ecco qua, in nottata, guardate, un nucleo temporalesco molto intenso tra Versilia e Spezzino, poi continua, si allontana e poi domani già nel pomeriggio arrivano altre piogge intense nel Golfo Ligure e Alta Toscana, sempre più intense, guardate la nottata, si organizzano, lo scirocco entra ed ecco il forte peggioramento, guardate, inizia a nevicare anche sulle Alpi, piogge intense su tutto il nord ovest, Arco Ligure, piogge intense ancora la mattinata di venerdì, poi tutto passa verso il nord-est e qui in questo frangente potrebbe iniziare a piovere anche in Romagna, Alt Adriatico e poi si sposta di nuovo verso il centro, sabato, sabato centro, sud, ancora regioni alpine, guardate quanta pioggia e ancora qui favorito il tirreno ancora, poi pausa sembrerebbe, ma poi altri peggioramenti sono in arrivo, eccoli qua, guardate, questo dovrebbe interessare dopo il 24-25 altri passaggi perturbati molto intensi, guarda, uno dopo l'altro, questo è molto forte, ha fatto anche la carta di previsione che dovrebbe essere verso la fine di ottobre, già lo stanno prevedendo in molte missioni con nevicate diffuse sulle Alpi, guardate quante ce ne sono, e allora, andiamo rapidi, altrimenti ogni volta parlo tanto, ma quindi, è iniziato il peggioramento, un altro nubifraggio oggi dopo quello di Ove, di Ostia, il tirreno sta subendo queste correnti occidentali che col mare molto caldo a ottobre innescano con un certo wind shear, cioè, correnti più occidentali in quota, lo scirocco che si innesca al suolo, ci sono le condizioni ideali, con l'umidità dei mari caldi mediterranei, per innesco di anche fenomeni temporaleschi di forte intensità. Stanotte peggiora quindi, inizia a peggiorare Alta Toscana e Liguria di Levante, il peggioramento che continuerà e poi, permanendo questo tipo di precipitazioni, si estenderanno con l'arrivo di un nuovo forte, intenso fronte perturbato domani sera a tutto il nord, con neve sulle Alpi, a quote elevate, ma abbondanti, e poi con le regioni tirreniche a seguire saranno interessate da piogge temporali, anche forti, poi sabato, e si altereranno ancora tante piogge, adesso è da definire poi l'esatta successione, l'edriatico potrebbe entrare in gioco dopo, non venerdì e sabato, forse domenica e poi con i peggioramenti che ci saranno dopo, ma ancora da stabilire bene. Per adesso, flusso portante che colpisce il nord, le regioni tirreniche e Sardegna, questo è quello che è, diciamo, il contesto generale, i fenomeni potranno essere anche forti, ci potranno essere criticità idrogeologiche tra giovedì sera e tutto venerdì al nord-ovest, al Coligure, alta Toscana, ma anche Lombardia, fino alle prealpi forse del Veneto e del Trentino, insomma, ci saranno occasioni per fenomeni molto intensi. Lì dettaglieremo mano a mano, continuate a seguire, ciao, ciao.